Siamo Francesca e Mariangela, genitori di Maria Vittoria e Caterina. Maria Vittoria ha 6 anni, Caterina ha 2 anni e mezzo. Entrambi frequentano la scuola Kitzendaz di San Donato Milanese da appena un anno. All'inizio devo dire che avevo qualche perplessità, soprattutto per Caterina. Ritenevo fosse troppo piccola per una scuola di inglese. Ora invece ogni dubbio è espanito. Maria Vittoria ogni volta che torna a casa per la lezione di Kitzendaz simula una vera e propria lezione con le vangole, dove le vangole sono le allunne e lei è la maestra parlando di inglese. Spesso che appoggia anche Caterina in questo gioco come allunna e Caterina si diverte tantissimo a partecipare a questo gioco. Imparare attraverso il gioco è una cosa bellissima se ci pensi. Per noi genitori non può esserci un modo migliore di sapere che i nostri bimbi si stanno divertendo e sono felici alla scuola di San Donato Milanese. Grazie per la visione! Grazie per la visione!